Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica trailer reaction, una rubrica che ho lasciato un po' andare ultimamente, anche perché ultimamente facevo le trailer reaction su Twitch e continuerò a farle probabilmente per altri trailer, ma in questo caso questa trailer reaction è una scusa per parlare del panel del San Diego Comic Con che c'è stato la notte scorsa, ci sono state un sacco, un sacco, un sacco di annunci da parte dei Marvel Studios e vorrei parlarne con voi, ma dato che solitamente io non parlo di news e di notizie, lo faccio attraverso queste due trailer reaction, quella di She-Hulk e quella di Wakanda Forever. Guardiamo subito insieme il trailer di She-Hulk che ve lo dico già da subito, è quello che mi è piaciuto di più per i miei gusti personali, anche se la CGI continua a non convincermi, quindi potrete dedurre che non è una reaction a prima vista, l'ho già visto, però lo voglio riguardare insieme a voi e magari concentrarmi meglio su alcuni punti. Allora, il fatto che Jennifer Walters torni a essere non Hulk non mi piace neanche un po', perché è la prima differenza tra Hulk e She-Hulk, c'è da dire che in questo Marvel Cinematic Universe già Hulk adesso resta sempre nella forma Hulk, nella forma Professor Hulk, quindi ci può stare. Questa cosa mi ha affascinato, guarda in macchina e rompe la quarta parete esattamente come nei fumetti, ma non se ne rende conto nemmeno lei, se ne rende conto per la prima volta. Abbiamo inaugurato una divisione apposita e voglio che She-Hulk ne sia al voto. Jennifer Walters, namaste. Ho un pesante conflitto di interessi, ha cercato di uccidere mio cugino Bruce. Sì, non fa niente. Persino Emil Blansky a Bominio resta sempre nella forma Bominio, invece qua lo fanno trasformare. È una cosa che a me dà fastidio da morire, ma è chiaro che sia per due ragioni. La prima è economica, non hanno abbastanza soldi per farli sempre in CGI, e la seconda è perché vogliono mostrare il volto del vero attore, in particolar modo quella di Tim Roth, perché quando è a Bominio cambia drasticamente. La parte in cui parla con Wong è davvero orrenda la CGI. Ecco, questa sicurezza in se stessa tipica di She-Hulk mi piace un sacco da vedere, perché è chiaro che quando è Jennifer Walters non ce l'ha. E qua è il gran finale, il motivo per cui ho messo i pantaloni bianchi. Daredevil, Daredevil, grande ritorno con il costume giallo. Lo si sapeva, ve lo dico molto tranquillamente, il costume giallo a me nei fumetti fa schifo, fa cagare, non ha senso. Aveva forse senso negli anni 60, quando non riuscivi a fare un personaggio completamente monocromatico, senza che risultasse una macchia di stampa sulla carta del fumetto, ma poi una volta che l'evoluzione della stampa è migliorata, non aveva più senso avere il suo costume giallo. Ciò nonostante, qua sono riusciti a rendere il costume giallo davvero, davvero figo. Si è visto solo mezzo secondo, ovviamente, però è davvero figo. Ciò nonostante, non pensiate che io faccia il cosplay del costume giallo, non lo farò mai, farò comunque il costume rosso. Però, ecco, sono molto felice di questo ritorno di Daredevil, ma soprattutto sono molto felice perché hanno annunciato una serie dal titolo Daredevil, Daredevil, Daredevil Born Again, che si ispira ovviamente alla run Daredevil Rinascita, anche se in Daredevil Rinascita abbiamo una Karen Page che finisce nella tossicodipendenza. Io spero di non vedere questo nel destino della Karen Page e dell'MCU, spero proprio di no, anche perché abbiamo visto che ormai si differisce parecchio dalle opere originali, quindi spero vivamente non ci sia questa run, ma sia semplicemente citata Rinascita, un po' come Spider-Man Homecoming rappresentava a livello metanarrativo il fatto che Spidey tornava all'MCU dalla Sony, tra virgolette, e Rinascita è, diciamo più che altro, un richiamo metatestuale, metanarrativo, al fatto che il personaggio di Daredevil rinasca nel Marvel Cinematic Universe, dato che tecnicamente la serie Netflix non è canon. Ci sono stati davvero un sacco di annunci, hanno annunciato la fine della fase 4, la fase 5 e la fase 6, e hanno determinato che queste fasi si chiamano ufficialmente la Multiverse Saga, così come le saghe precedenti, la fase 1, 2, 3, si chiamavano la Infinite Saga, scusate, Infinity Saga, queste fasi 4, 5 e 6 si chiameranno la Multiverse Saga, sancendo ufficialmente che si andrà verso una lotta, una battaglia, una guerra multiversale, e ce lo dice chiaramente il titolo di Avengers Secret Wars. Ci saranno Avengers, il Regno di Kang, qualcosa del genere, l'Avvento di Kang, adesso non ricordo il titolo originale, e Avengers Secret Wars. Sicuramente sfrutteranno le due cose, quindi il multiverso generato da Kang, per poi andare alla Secret Wars, dove probabilmente vedremo non solo gli eroi combattere tra loro, in un pianeta battle world, ma probabilmente vedremo anche le varianti dei suddetti eroi battersi tra loro, quindi chissà che non torneranno magari lo Spider-Man di Garfield, lo Spider-Man di Maguire, a combattere con lo Spider-Man di Holland, e vedremo appunto, non lo so, le altre varianti di altri personaggi, come il Reed Richards che abbiamo visto in Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ovviamente quello è morto, ma ci saranno magari altri Reed Richards combattere tra loro, e così via, e così via. Sarebbe proprio bello vedere una cosa del genere, magari con Loki che a tutti gli effetti prende un po' anche le redini di questa situazione, dato che è stato in un certo senso colpa sua, colpa di Sylvie, se tutto questo ha avuto inizio. Cioè nonostante dovremmo vedere anche Daredevil nella serie televisiva Heco, che è appunto una delle villain della serie televisiva Hawkeye, che invece nel fumetto è sia un interesse amoroso, sia un nemico di Daredevil. Lo trovate nella run fumettistica Daredevil, parti di un buco. Queste cose che vi sto dicendo magari ve le metto qua in descrizione, così vi pigliate i fumetti e sarete pronti per queste uscite. Ma adesso, bando alle ciance, guardiamo anche il trailer di Wakanda Forever, che per molti è stato il trailer più bello. A me onestamente, a parte essere un commiato al compianto attore Chadwick Boseman, a livello puramente narrativo, e non metanarrativo, perché metanarrativo ne riconosco il valore, ma a livello puramente narrativo non mi ha dato nulla. È un film senza il suo attore principale. Vediamo dal trailer cosa ho dedotto per la quale abbiano spiegato l'assenza appunto del protagonista. Mettere questa versione di No Woman No Cry è un bel tocco, ammetto. Domanda, ma c'è il mare nel Wakanda? Non è al centro dell'Africa? Magari non sono in Wakanda in quella scena. Allora, sono tutti vestiti di bianco e stanno ballando. Non fatevi ingannare che non è una festa. Nella cultura africana vestirsi di bianco... Africana scusate se generalizzo, eh. Però in molte culture africane vestirsi di bianco è come per noi vestirsi di nero. Quindi dovrebbe essere un funerale. A parer mio è un funerale. Poi vediamo anche qua la regina che è vestita di nero al di fuori del funerale. Vediamo Shuri che sta piangendo. E qua vediamo la nascita di qualcuno che inizialmente ho pensato fosse il figlio di... di Black Panther. Invece no, è sott'acqua. Non è un parto sott'acqua, semplicemente è la nascita di Namor. Mi viene quasi da pensare che la parte umana di Namor... perché Namor è metà Atlantideo e metà umano. Mi viene da pensare che la parte umana di Namor sia un Wakandiano. E non vorrei che Namor sia appunto l'artefice della morte di Black Panther. Sono la regina della più potente nazione del mondo. E la mia intera famiglia è morta. Intera famiglia? Non ho già dato abbastanza. Non so se notate. Allora, quelli vestiti di blu non sono presi da Avatar, ma sono gli Atlantidei. Gli Atlantidei nella Marvel, nei fumetti Marvel, sono azzurri di carnagione. Rispetto per esempio a quelli della DC Comics. Però se notate, ci sono questi Atlantidei, questi personaggi vestiti di azzurro, che hanno comunque un vestiario molto tribale. Per quello dico, secondo me, nella loro cultura hanno molte influenze wakandiane. Questo spiegherebbe la guerra imminente che c'è tra il Wakanda e Atlantide. Vediamo comunque nel finale che Black Panther c'è, o quantomeno qualcuno vestito da Black Panther. Tra l'altro è un vestito da Black Panther con degli intarsi dorati. Questo mi ha ricordato anche molto il costume che ha usato Killmonger nel primo film. Ora, non lo so, non credo tornerà Michael B. Jordan, anche se sarebbe bellissimo, ma non avrebbe senso a livello narrativo. Però potrebbe essere qualcuno che prenderà il manto di Black Panther, oppure semplicemente... In realtà Black Panther nella finzione narrativa non è morto, e magari semplicemente è imprigionato, è assentato, lo si vedrà alla fine solo con la maschera completa, full costume, e farà una scena finale. Non lo so, mi aspetto qualcosa del genere. Però quello che ha detto la regina mi fa presagire non solo che, appunto, Black Panther sia morto anche nel film, oltre che nella realtà l'attore, ma che anche il resto della famiglia sia morta. Quindi anche Shuri, che potrebbe darsi perché magari la vogliono tagliare fuori, dato che è stato problematico gestire l'attrice durante questi due anni di pandemia, durante le riprese. Quindi non lo so, potrebbero sistemare alcune cosette anche da questo punto di vista. Però sono incuriosito, sono genuinamente incuriosito. Non posso dire di avere hype, perché per me il personaggio di Black Panther, come lo hanno trattato nella MCU, non è interessante. Avrebbe potuto essere interessante, come nei fumetti, se si fosse appunto sposato con un membro degli X-Men, con Tempesta. Ma dal momento che gli X-Men ancora non ci sono in questo contesto, a me non prende molto, specialmente perché è molto slegato dagli altri film. Quindi Black Panther a me interesserà vederlo negli Avengers, più che altro. Parlando di, ho appena nominato Tempesta degli X-Men, hanno anche annunciato un film dal titolo The Mutants. Ora, potrebbe essere finalmente un ritorno degli X-Men, dei mutanti più in generale. Forse ci vogliono far vedere come nascono i mutanti nell'MCU, e magari gli X-Men arriveranno più avanti, oppure gli X-Men saranno presenti nel film The Mutants, ma appunto non sarà incentrato sugli X-Men, ma in generale sui mutanti, buoni e cattivi che siano. Potrebbe essere una ventata di aria fresca per staccarsi comunque dal franchise degli X-Men, che rispetto ad altri franchise è ancora nel cuore di molti fan. Ovviamente fan non giovani, non giovanissimi, fan della mia età, però ci sono delle punte di diamanti in quella saga molto molto interessanti, e per nulla invecchiate male. Mi riferisco a X-Men 1, X-Men 2, X-Men Day of Future Past. Sono tre tra le nove pellicole, anzi, se contiamo anche quelle di Wolverine, c'è anche Logan, e ci sono appunto quattro tra le dodici pellicole della franchise degli X-Men, che sono davvero delle bellissime perle da vedere e rivedere e rivedere. Quindi ci sta che prendano una via diversa, per quanto io vorrei un'introduzione molto classica degli X-Men, però la capisco, ci sta che nel mercato, nell'industria cinematografica, si vogliano differenziare. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste tre cosette del trailer di She-Hulk, di Daredevil, di Wakanda Forever, ma anche dei film che arriveranno sugli Avengers, e fatemi sapere se, oltre a queste cose che ho detto, della miriade di cose che hanno annunciato, se c'è qualcosa su cui avete più hype. Poi ovviamente faremo anche magari un piccolo recap, un piccolo videino in cui parleremo della DC Comics, e in particolare del trailer completo di Black Adam e del trailer di Shazam 2. Grazie per avermi seguito fino a qui, o come sempre con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.